Buonasera, ben ritornati cari telespettatori a Tu per Tu con il nostro architetto. Paolo Uga, benvenuta. Grazie Maria Rosa, grazie dell'invito come sempre e un buon anno anche se in ritardo, perché è la prima volta con l'anno nuovo. È vero, è la prima volta di un gradito ritorno, quella del nostro architetto che anche per quest'anno ci vuole accompagnare all'interno della nostra casa, perché così se abbiamo voglia di una botta di vita, di un po' di novità, di rifare qualcosa, ecco che lei ci regala la sua professionalità e ci dà degli spunti che poi possiamo mettere in atto, insomma, quando ci troviamo a ristrutturare, a rivedere la nostra casa o acquistarne una nuova, anche una seconda casa. Perché stasera ci occupiamo, quando me l'ha proposto il nostro architetto, io ero entusiasta perché forse è la stanza in cui tante persone trascorrono la maggior parte del tempo, quando sono in casa, perché non è più solamente un locale così di bisogno, ma è un locale confortevole, sempre più bello, sempre più curato e diciamo la verità, dopo la cucina è quello in cui investiamo più tempo e più energia anche quando dobbiamo scegliere tutte le componenti e allora questa sera parliamo di bagno. Preparate le vostre domande, telefonate, mandate messaggi, io sono qua che li aspetto al 366-110, ecco mi sono incartata, Fabio mettimi fuori il numero perché qua non ne usciamo vivi altrimenti, lo dico tutte le sere e oggi non mi viene il numero di telefono, iniziamo se volete telefonare allora, se volete telefonare 0381-09-366-1188-002 per i vostri whatsapp e invece per i vostri numeri di telefono per le telefonate 0381-09-1451, ti capita mai Paola di dimenticare i numeri? Capita! 366, il numero per i whatsapp e invece per le telefonate lo 0381-09-1451, mi raccomando, aspettiamo anche le vostre telefonate, non siate timidi e allora iniziamo cara Paola a parlare appunto di bagno, io ti ho detto le mie impressioni, ma è un po' così è un ambiente sul quale perdiamo tanto tempo anche in fase decisionale? Sì, perché è diventato un ambiente importante per la casa, non è più solamente il luogo diciamo chiaramente dove ci si svolge le funzioni vitali normali, ma è un luogo dove anche il benessere è dato magari da una certa tipologia di sanitari, dalla doccia più che altro, che magari oggi non ha più il concetto di dimensioni ridotte come poteva avere una volta, ma sono degli spazi addirittura che possono, che di svariate misure ecco e quindi che ci permettono di viverla in maniera diversa, ci sono sempre anche gli elementi diciamo come la vasca, ma oggi la tendenza, diciamo ha passato il periodo un pochettino della vasca idromassaggio, anche se può essere sistemata magari nell'ambito di una piscina vicino, in esterno ecco, però internamente il bagno in genere oggi ha questi macro piano doccia soprattutto, anche perché comunque è più accessibile proprio rispetto ad una vasca e se vogliamo anche come barriera architettonica, nel senso che magari una coppia col passare degli anni considera il fatto che alla doccia uno entra in maniera molto più diretta rispetto a una vasca e così luogo anche poi diciamo del piani lavabo, piani lavabo possono essere singoli, possono essere doppi, possono essere di sospesi che poggiano a terra, grandi specchi, grandi spazi dedicati anche all'oggettistica e a tutto quelle che sono le minuterie e che magari in un bagno, molte persone amano vedere e guardare e sfoggiare, come i profumi, le bottiglie dei profumi, sono elementi che arredano ecco insomma, quindi è un luogo importante. Allora quando sei in fase proprio di disegno, ecco, com'è la tendenza adesso? Perché noi ci ricordiamo gli appartamenti su base classica in cui il bagno aveva veramente delle dimensioni resicate, no? Adesso sono cambiate un po' le proporzioni? Sono cambiate quando non possono cambiare per esigenze proprio di metri quadrati, di spazio, perché magari l'appartamento è piccolo, non è grande, è chiaro che si gestiscono. Se c'è lo spazio, il bagno può essere progettato quindi magari anche con degli ambiti, con un angolo relax, con una poltrona che può permettere, non so, di fare e addirittura di inserire dentro degli elementi come una piccola sauna, in modo da avere un bagno che è un po' sdoppiato con la parte magari dei sanitari, e con la parte diciamo dedicata alla doccia e al discorso anche della sauna e della parte lavabo. Quando i bagni chiaramente non sono grandi, non c'è questa possibilità di gestire lo spazio così in maniera eclatante, allora si ricorre diciamo comunque ad una giusta posizione degli elementi cercando di dare comunque funzionalità ed estetica a tutto quello che deve essere inserito. Abbiamo detto bagno, abbiamo già scatenato i nostri telespitatori con tantissime domande, però te ne voglio fare una che è abbastanza precisa, ci chiede Serena come mai e se è obbligatorio fare quella sorta di antibagno che vede in tutte le case nuove che visita e che viene spiegato così, dice no qua abbiamo dovuto far così perché è obbligatorio fare un passaggio prima del bagno. Come funziona? No, non in tutti i casi, diciamo è obbligatorio se il mio bagno per esempio dà su una zona giorno, ossia non so verso la zona pranzo piuttosto che nel soggiorno e bisogna fare un antibagno perché effettivamente si collega con un ambiente che viene vissuto in maniera diversa e allora non ci può essere l'accesso diretto al bagno. Questo però è sempre il regolamento edilizio di ogni comune che l'ho detta. Nella norma possiamo dirlo quando il bagno è orientato verso la zona giorno, ma se noi abbiamo per esempio una camera da letto che definiamo la padronale, cioè la camera dei genitori, il bagno può avere il collegamento diretto con la camera, non deve avere l'antibagno, così come tutte le altre camere perché potrei avere una casa di certe dimensioni e ogni camera potrebbe avere un bagno in camera a servizio. Ma se io compro una casa, mi viene da chiedere, un appartamento che è fatto in un determinato modo, diciamo come si usava prima, ma col bagno diretto che dà sul corridoio, insomma il bagno che dà magari proprio sulla zona giorno. E io vado a questo bagno, lo vado a toccare perché magari cambio i sanitari, eccetera. Sono obbligata a creare questa zona? No, se è una casa storica, soprattutto gli ambienti sono quelli, se poi ci sono delle volte, ci sono degli elementi da rispettare, si può mantenere, diciamo, quello che è la disposizione e la distribuzione dei locali. Per cui se il bagno esisteva in quel punto viene rinnovato solamente dentro e però se esisteva un collegamento con un corridoio piuttosto che con una zona giorno, quello rimane tale. Ok, molto bene. Come si usa di solito questa zona? Perché poi alla fine uno dice che aspetta, rubo dello spazio al bagno, ma c'è uno stratagemma magari per renderla funzionale? Ah, l'antibagno? Sì, sì. Almeno io nelle soluzioni che ho adottato, praticamente alle volte quando non c'è la disponibilità di spazio per creare un locale lavanderia, creo l'armadio lavanderia dove ho due ante, chiudo tutto dentro e metto una piccola lavella per lavare a mano e lavatrice e asciugatrice in colonna e quindi chiudendo però praticamente mi sono ricavata a un locale lavanderia oppure alle volte quando le caldaie sono all'interno e non sono in esterno può contenere la caldaia e quindi sempre poi mascherandola diciamo con un armadio e quant'altro. Oppure diventano delle armadiature a muro perché c'è la necessità di avere spazio per ritirare appenderia piuttosto che avere ripiani, piuttosto che una scarpiera, comunque lo spazio c'è modo di recuperarlo e come? Bene, allora invece adesso passiamo veramente a quello che di bello Paola crea e realizza all'interno delle abitazioni di tutti i suoi clienti e vediamo proprio degli esempi pratici di bagni e rimarremo davvero sorpresi dalla bellezza di queste stanze veramente ti viene voglia di rimanere dentro perché poi quando li vedi che sono così belli ti viene proprio voglia di passare lì del tempo allora Fabio in regia è già pronto con dei contributi fotografici che ci ha portato gentilmente la nostra dottoressa Uga ecco, questo è un bagno del quale avevamo già parlato perché avevamo appunto parlato della carta d'apparati qua tu l'hai utilizzata, però di questo forse abbiamo anche il prima sì, 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 c'era una foto del prima ecco qua ecco, questo è il bagno praticamente che è un tipico bagno di una casa anni 60-70 cioè non sembra neanche la stessa casa ecco no, e chiaramente adesso l'inquadratura è leggermente diversa perché si è voluto puntare sulla finitura diciamo della parete però il bagno è completamente ristrutturato nella foto precedente si vede, ecco, questo è il risultato del bagno ristrutturato e quindi non ha più i canoni diciamo del bagno di prima a terra c'è una, perché si gioca molto sui materiali anche a terra c'è un gres porcellanato di colore grigio scuro alle pareti laterali è stato abbinato sempre un gres porcellanato ma a effetto marmoreo e con un effetto di materiale bianco carrara e il fondo del piano, del mobile lavabo con la bacinella soprapiano invece è dato da questa tappezzeria molto particolare con questo fondo rosa e questo specchio un po' di forma circolare ma irregolare è molto simpatico, certamente rispetto a quello che è una casa giovane questa ma rispetto al bagno di prima sicuramente non è neanche parente allora abbiamo visto un bagno veramente vecchio, così lo possiamo definire e ormai è anacronistico e abbiamo visto come questo, preso solo da un'angolazione sembri già molto più grande, molto più arioso, molto più luminoso sebbene giochi con tanti elementi tutti diversi e con dei toni anche scuri io adesso però vorrei andare, se la regia ce lo consente a vedere subito quei fantastici bagni blu sì ecco, perché mi sono rimasti veramente impressi mentre preparavamo la puntata e allora ecco che anche qui ecco qua, adesso rimane inquadrato poco la parte del pavimento perché c'è la scritta ma adesso vedrete questa è una casa dove la linea del colore del bluette, questo bluette è un po' presente in tutti gli ambienti anche nella zona giorno per dire c'è una parete che magari fa di fondo ai divani di colore bluette è la casa bluette è la casa bluette e i bagni abbiamo voluto studiarli proprio su questi abbinamenti qui è del bianco qui a terra, a pavimento, è la parete di fondo dei lavabi che adesso non si vede diciamo in primo piano è rivestita con una piastrella che si chiama di ciottolato agglomerato ricostruito sono piastrelle impastate con della resina e dentro c'è proprio un ciottolo bianco tipo il ciottolino di fiume e quindi ha un effetto c'è un sasso vero un sassolino vero proprio gettato nella resina ed ha un effetto molto bello diciamo proprio anche come al tatto è comunque un materiale piano rimane liscio perché la resina lo impasta diciamo facendolo diventare liscio mentre le altre piastrelle che erano legate sono piastrelle 10x10 di formato 10x10 e sono di colore bluette i sanitari sono tutti di linea tonda ma qua si vede bene l'attraversamento e il sassolino ricostruito gettato nella resina e i sanitari sono tutti giocati sul bianco con rubinetterie cromate anche gli elementi diciamo il termo arredo e i caloriferi sono tutti bianchi e così anche il mobile e così anche il mobile sì con le bacinelle da sopra piano e un bagno diciamo giocato tutto su questi toni del bianco e del bluette vediamo se abbiamo un'altra foto sempre di questo bagno ecco questo separa la casa per far vedere diciamo che c'è il tono del bluette si vede poco poco ma è una casa molto moderna con le presenze anche di acciaio spazzolato tipo questa ringhiera che separa i due bagni e questo è un'armadiatura a muro realizzata da una pitrice che ha fatto l'Accademia di Belle Arti su un dipinto di Roy Linkenstein che è un artista della pop art cioè quello è un dipinto vero? quello è stato dipinto anta per anta perché è un armadio di due ante anta per anta è stato dipinto da questa diciamo pitrice proprio che ha fatto Brera e ha riprodotto il quadro di Roy Linkenstein quindi tu le hai detto all'artista cosa volevi? sì volevamo giocare con questo elemento un po' pop art moderna non siamo andati su Andy Warhol che magari è quello più noto per la pop art ma siamo andati su Roy Linkenstein e abbiamo riprodotto quello è veramente un capolavoro quell'armadio un capolavoro bene guarda che idee torniamo un attimo sul bagno di prima scusa Fabio vorrei tornare sul bagno di prima quello del ciotolino è molto bello vedere come stanno bene alla fine questi due materiali veramente diversi fra di loro la ceramica lucida 10x10 bluett il sasso ha un effetto non lucido chiamiamolo satinato però si abbinano molto bene ecco perché quella adesso passami il termine è una normale piastrellina 10x10 è di grass no? quella bluett sì l'altra è di formato leggermente più grande perché prende il 20x20 prende due piastrelle da 10x10 ed è ricostruita con questa resina che è un po' blu bisognerebbe avere proprio un macro particolare con il sasso all'interno torniamo un attimo sulla zona lavabo sull'altra foto che volevo vedere lì l'effetto perché poi praticamente questa striscia per terra attraversa e risale e fa tutta la parete di fondo del mobile dove ci sono i lavabi con le bacinelle meraviglioso alla fine il mobile è a doppie bacinelle perché questo sarebbe il bagno delle ragazze sono due femmine per cui è un bagno che ha due bacinelle doppie bacinelle ha il termoarredo comodissimo sì termoarredo che diventa arredamento ma è anche molto funzionale sì 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 e poi adesso non si vede la parte della doccia ma comunque è tutto a cristallo ecco secondo me qua abbiamo visto proprio un esempio di come una normale piastrella qualcosa appunto di usuale perché quante volte le abbiamo viste il 10x10 negli arredamenti diventa qualcosa di speciale abbinato a questa piastrella in vetro resina col sassonino dentro sì è una questione di abbinamento di materiali la materia fa molto perché è chiaro che alle volte si fanno anche bagni molto essenziali con una piastrella unica senza creare abbinamenti ma in questo caso le due materie legano bene bene fai tanta ricerca di materiali tu? sì sì perché effettivamente alle volte è giusto proporre degli elementi innovativi e quindi è importante conoscere i materiali bene e allora poi una stanza importante come il bagno come il bagno esempio che ne so in una casa in montagna il bagno starebbe bene se non fatto proprio con in pietra magari con una parete in pietra oppure oggi si possono usare anche i gress porcellanati che però hanno queste superfici molto strutturate e producono e evidenziano molto bene l'effetto pietra pur essendo gress porcellanati è più facile da mantenere anche per la pulizia certo perché la sappiamo che la pietra assorbe molto certo allora passiamo all'altro bagno blu che fa parte sempre della stessa casa abbiamo detto non è il secondo bagno a questo punto è il bagno dei genitori questo è il bagno dei genitori ok quindi anche perché l'altro è il bagno delle ragazze ma nella realtà fa anche ma hanno un terzo bagno per la zona giorno quindi quello non ho fotografato adesso non l'avevo fotografato non avevo le foto di quello però questo sì è il bagno legato alla camera padronale dei genitori i toni sono i medesimi solo che cambiano il materiale i materiali il fondo e la parte del muretto sono in mosaico in mosaico che è della bisazza che riprende questi toni un po' del bluet cioè del grigio perla e un po' brillantato e il mobile e i sanitari qua sono molto rigorosi rispetto alla linea tonda del bagno delle ragazze qua si vede molto bene il tono del bluet del mosaico anche qui c'è un gioco a terra con quella incrocio di mosaico ma solo che c'è un grass porcellanato di colore grigio scuro un po' peltro perché è brillantato sì infatti sembra quasi specchiato ed è legato al mosaico anche qui che crea questa greca particolare a terra e alcune pareti invece sono poi completamente rivestite di mosaico in questo caso i sanitari c'è sempre l'abbinamento del bianco ma hanno una linea particolare molto rigorosa sono dei cubi praticamente sono sanitari si chiamano frozen frozen sì perché sembrano dei cubetti di ghiaccio allora Paola un po' di domande sul mosaico Mauro ci chiede quindi mi ha sdoganato il mosaico in tutto il bagno perché pensavo fosse un po' pesante invece no non è in tutto il bagno ci sono alcune pareti adesso lì è molto presente è presente nel motivo a pavimento e poi nella parete dei sanitari e nel fondo parete del mobile lavabo con il muretto che divide dalla vasca in quel caso in quel bagno hanno la vasca che non si vede non è inquadrata ma quella parte lì poi è rivestita con gress porcellanato ecco vediamo lì la spalla di gress porcellanato e i sanitari e questa parete praticamente sono una di fronte all'altra quindi non sono parete continue sono parete diciamo che non hanno una continuità tra di loro ecco mi sembra che in entrambi i bagni che sono grandi però non degli stanzoni mi sembra che tu riesci comunque a infilare bene i due i due lavelli è così? sì 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 i piani lavabo tra l'altro quella casa era una casa rigorosissima del anni 70 divisa corridoio stanza destra sinistra invece è stata completamente sventrata adesso parlando della planimetria della casa in generale e internamente è stata impostata tutta diagonale per cui i locali anche non sono regolari la parete dei sanitari è una parete diagonale di fronte a quella dei lavabi che si vede bisognerebbe vedere adesso tutto il progetto in planimetria però pur essendo ambienti che magari hanno dei tagli diagonali sono riuscita a dargli una giusta collocazione a tutti gli elementi che devono essere inseriti nei bagni facciamo un'ultima domanda prima di andare in pubblicità Monica ci chiede ma quei frozen sono comodi? ma sì non si sono mai lamentati per cui effettivamente devo dire che poi li hanno scelti sono stati scelti insieme ma con decisione non come forzatura quindi sì magari un'altra persona può trovare più comodo un sanitario tondo ma loro ci sono sempre trovati bene non hanno com'è la tendenza adesso dei sanitari piccoli o una volta c'erano quei maxi sanitari no il sanitario ha una dimensione più o meno diciamo regolare per tutti prima c'era più la tendenza del sanitario sospeso sospeso per via della pulizia perché sottopasso dentro devo mettere chiaramente a parete il combifix che mi regga con la struttura diciamo metallica perché se no per il peso ci sarebbe il ribaltamento e oggi però oggi anche dopo i saloni del mobile tutto quanto c'è una tendenza al ritorno al sanitario d'appoggio anche se però di dimensioni più o meno contenute sì 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 allora pubblicità per noi torniamo fra pochissimo con il nostro architetto Paola Uga eccoci qua torniamo in diretta lo facciamo con il nostro architetto Paola Uga vogliamo rapidamente andare a vedere un altro bagno continuando sul discorso dei mosaici perché il mosaico è un po' un materiale che tiene botta non conosce sì se è abbinato ad altro materiale e magari non caricato ha una bella resa una bella resa non passa mai di moda diciamo ecco questo è un bagno infatti si vede come le pareti dei sanitari e a terra posato in diagonale è stato utilizzato un grass porcellanato un effetto porcellan wood perché la piastrella adesso non so se si vede diciamo di primo piano comunque ha un effetto venato quasi fosse un legno sì sì si usa molto porcellan wood parecchio e la nicchia di fondo invece è stata trattata con il mosaico quel mosaico è un colore proprio peltro nero molto scuro ma questa nicchia l'hai creata tu o c'era già? quella è una casa d'epoca per cui la nicchia c'era io l'ho valorizzata infatti la signora in quella nicchia ha tutte le collezioni di profumi e il personale ecco qua lo vediamo insomma un po' nella sua interezza quindi anche il lavabo sì preso da un'altra angolazione il piano lavabo in questo caso è una semplice panca non c'è mobile sotto perché il mobile sarà una semplice cassettiera che si inserirà a pavimento ma su ruote e quindi il piano lavabo ha uno spessore di circa 8 centimetri con una bacinella soprapiano e poi la parte dello specchio diciamo orizzontale la parete che si vede di fondo nasconde praticamente il piano il box doccia che è sempre in grass porcellanato tutto quanto e il mosaico lo ritroviamo dietro lo specchio dietro il lavabo lo ritroviamo dietro lo specchio lo ritroviamo ecco qua si vede e in questo caso tutti gli effetti sono le finiture diciamo riprendono la rubinetteria e anche il radiatore d'arredo lo scalda salviette riprende la cromatura delle rubinetterie e quindi ha questo effetto molto lucido diciamo perché è cromato è un bagno molto elegante sì questo è un bagno molto elegante molto elegante adesso nelle fotografie non si vedeva tutto anche perché ha una certa altezza ed è l'altezza siccome c'è una volta essendo una casa d'epoca l'altezza è tagliata da questi binari diciamo cavi tesati che illuminano il bagno che meraviglia che nello specifico ecco si vede il cavo tesato si vede e a queste luci tubolari sono cavi prodotti da un'azienda che fa quasi esclusivamente diciamo quel tipo di corpo illuminante poi magari ne parliamo in un'altra puntata oggi parliamo più di materiali in bagno è importantissima anche la luce sì sì qui a tutte queste luci sono tutte vabbè oggi è tutto luce led poi c'è chi preferisce la luce led più calda e magari chi la preferisce più fredda tu come la preferisci? ma a me piace non troppo gialla mi piace l'intensità media non proprio spetrale bianca ma quell'intensità media anche a me andiamo avanti perché c'è un bagno che definirei molto semplice ma nella sua semplicità ha un bel effetto ecco è questo in questo caso il bagno è della stessa casa quindi un bagno l'abbiamo visto quello con un gres porcellanato e il mosaico nero e peraltro questo è un piccolo bagno ma giocato con un unico materiale io lo chiamo un po' il bagnascatola perché sia il pavimento che le pareti sono rivestite con una semplice piastrella gres porcellanato 60x60 cm però strutturata con un effetto come se fosse un po' corten non so se si vede dalla fotografia ma tipo un materiale che sembra quasi una lamiera sì è vero sembra quasi un effetto metallico è un effetto metallico questa piastrella in particolare è prodotta dalla Villeroa Ebok e con una semplice piastrella però secondo me ha una resa elevata e poi questi particolari un pochettino diversi tipo il piatto doccia che ha questa forma un pochettino a spicchio con tutta la parte linea d'appoggio anziché avere o il piatto doccia resinato o ceramico che scalda un po' questo piatto ligno e poi è un pochettino articolato pochi spazi ma ben distribuiti allora Paola grazie a questo bagno secondo me capiamo che se gli spazi sono piccoli con un unico materiale se bello riusciamo a ottenere un effetto meraviglioso un effetto veramente notevole perché quel bagno fotograficamente ecco forse non si vede adesso vediamo la parte d'ingresso dove c'è un mobile sospeso di colore scuro che riprende un po' la piastrella con la bacinella soprapiano anziché integrata io amo di più anziché mettere il mobile con la bacinella integrata dentro la bacinella soprapiano perché è sempre più estetica c'è chi dice ah ma fa lo schizzo c'è molto però insomma non è che uno si lavi poi dopo che deve fare la doccia quando si lava le mani ecco però ha una bella resa diciamo dal punto di vista estetico poi secondo me non c'è tanta differenza di schizzo fra questi e quelle mezzo inserite nel mobiletto non cambia molto allora siccome qua il tempo corre vorrei passare a vedere dei bagni un po' particolari con dei materiali invece un po' innovativi che non siamo abituati a vedere comunque non sono entrati nelle nostre corde e allora Fabio proponici subito i successivi bagni quello con le cementine e l'altro perché davvero c'era quello rosso quello con le cementine qua vediamo proprio quello di cui stavamo parlando la ricerca del materiale sì sì e anche il prima e il dopo ecco abbiamo il prima anche di questo bagno rosso sì con alcune parti sono rivestite altre no sono semplicemente dipinte proprio adesso se ci fa vedere veramente cos'era prima il bagno perché il bagno ecco questo qua no non è questo siamo persi il bagno prima però non era molto più bello di questo ma no comunque possiamo descrivere ecco questo è il prima del bagno adesso possiamo andare sulla foto quindi con le foto con il bagno rosso e questa è l'altra parte e questo è praticamente il risultato il risultato dove c'era il lavabo e anche perché le posizioni per via degli scarichi quant'altro sono rimaste le medesime del precedente però si è giocato quindi con la pavimentazione che riprende un unico tono mentre a parete adesso poi si vedrà nel primo piano del lavabo e anche nella parte della doccia in questo ecco qua solo con un ritaglio di piastrella che sono cosiddette cementine queste sono sui toni del tortorade grigi molto più paccate e anche qui c'è la panca con sotto il contenitore su ruote che comunque contiene un grande cassetto e la parte dello specchio e la parete diciamo ha voluto ravvivare i toni paccati diciamo del tortorade dei grigi ecco si vede bene una scelta azzardata al rosso no? si è una scelta azzardata ma adesso forse fotograficamente rende persin tanto perché quel rosso è leggermente più spento è quasi un bordeaux quasi un bordeaux la foto però l'ha reso molto più acceso comunque abbiamo visto che sembra totalmente un'altra casa si si vede se ci fa vedere la parte della doccia ecco è questa qua qua si vede molto bene come sono rivestite diciamo le pareti della doccia poi il box doccia è tutto trasparente ha solo un profilato cromato e le cementine qui si vede come sono combinate come disegno e come superficie diverse proprio tra di loro e anche come colori allora rimaniamo un attimo qua su questa foto abbiamo visto il prima un bagno assolutamente anni 70 diciamo ormai vecchio ormai non degno di stare in un appartamento moderno e quindi abbiamo visto come Paola si è però attenuta a quelli che erano gli scarici quindi le componenti sono rimaste lì non abbiamo stravolto no e poi abbiamo però in questo caso perché questo è un elemento che col tempo è avanzato in maniera diversa non si piastrella più oggi totalmente il bagno c'è la tendenza di abbinare per dire la carta da parati come abbiamo visto all'inizio piuttosto che la tinteggiatura a smalto come in questo caso con solo le parti dove l'acqua va ad incidere perché se faccio la doccia chiaramente devo pulire bene e quindi ho rivestito il piatto doccia e ho fatto solamente il prospetto leggero e basso prima dietro dietro il lavabo allora stiamo su questa foto perché dicevo abbiamo dietro la doccia abbiamo le cementine di cui adesso parleremo perché ce ne vediamo anche di altri toni poi abbiamo invece il pavimento che è uguale al rivestimento dietro i sanitari è praticamente uguale perché il rivestimento dei sanitari non è in cementine di vari tipi ma è monocromo come il pavimento che è monocromo poi abbiamo visto le cementine tutte colorate dietro il lavabo però anche lì solamente il quadrato il riquadro relativo diciamo allo schizzo che si può creare quando ci si lava le mani e una parete e le pareti della doccia vitturate normali cioè di rosso pareti della doccia alte perché chiaramente devo fare la doccia poi ho il cristallo libero e le altre pareti sono tinteggiate in modo normale tinteggiate in modo normale quindi un'altra soluzione che vi fa risparmiare sulle piastrelle compriamo meno cementine sì sì anche quella è una questione però secondo me crea degli abbinamenti leggeri giusti certo no no è gradevolissimo però noi guardiamo un po' tutti gli aspetti adesso passiamo al mio preferito il bagno con le cementine molto mediterraneo sì molto mediterraneo molto mediterraneo ecco qua si vede il particolare del pavimento le cementine sono tutti sui toni del grigio e dell'azzurro sono una diversa dall'altra come disegno e vengono miscelate proprio dal posatore bisogna un po' magari indirizzarlo e dirgli non mettermi i due grigi vicini devono essere per dire un po' dislocati ma in posizioni diverse anche la greca anche quello con il puntinato quello con una greca diversa e queste qua sono cementine prodotte in Sicilia che è proprio nella zona diciamo delle ceramiche tipo di Caltagirone e alle pareti dove c'è la si chiamano proprio cementine cementine sì perché sono realizzate con impasto polveri diciamo di colori vegetali ma su impasto di cemento e la base non è appunto è proprio fatto su una base di cemento e la piastrella viene poi diciamo comunque posata sempre incollata viene posata in maniera normale esatto qui quindi a differenza dell'altro bagno dove avevamo visto pochi particolari qui è proprio c'è tutto un pavimento fatto con la nostra e poi se c'è la fotografia ecco del mobile preso dall'altro lato si vede anche questo è un bagno che le cementine riprendono anche a parete certo e questo è un bagno che ha una doppia funzione sia bagno e sia lavanderia perché all'interno della parete alta è nascosta sono nascoste la lavatrice e l'asciugatrice in modo da sono presenti ma non non invadenti ecco rimangono nascoste e nello stesso tempo però avendo solo questi due bagni la casa questo bagno ha una doppia funzione certo è ugualmente molto molto gradevole pur avendo la doppia funzione quindi nelle case non tanto grandi magari nel nostro appartamento dove non abbiamo la lavanderia eccetera riusciamo comunque ad avere un bagno elegante nascondendo mi rimani un attimo sulle cementine Fabio che vorrei ecco come abbiamo abbinato il rivestimento cosa c'è nelle altre pareti allora sulla destra dove c'è il mobile abbiamo visto che c'è il ritaglio di cementine che riprende quelle del pavimento che sono tutte mescolate diciamo di disegno quindi a pavimento e a rivestimento ma basso fa boiserie solo mentre nella parete che si vede nell'altra foto questa ecco il lato sulla sinistra dove c'è una vasca da bagno non una vanodoccia la cementina si fa monocolore è tutta grigia riprende un grigio di quelli che c'è all'interno dei disegni però è sempre una cementina sempre una cementina in questo caso diciamo che quando usi la cementina non vai a mixare avrei potuto diciamo utilizzare una parte tinteggiata anche lì ma siccome si sta parlando anche di funzionalità perché la signora diciamo all'interno della doccia sopra proprio alla doccia alla vasca ha voluto posizionare un binario che nasconde una adesso non si vede fotograficamente ma nasconde praticamente una penderia perché la casa appunto si d'estate uno stende fuori hanno anche un bel terrazzo ma d'inverno vuole avere questa possibilità di poter stendere all'interno diciamo di questo bagno che diventa lavanderia e quindi lo fa sopra la doccia per quello che non ho tinteggiato perché se no l'umidità e altre cose allora siamo andati di piastrella è una signora molto concreta cara si in quel caso si dice architetto va bene tutto ma io sull'altro abbiamo utilizzato le tinteggiature con rosso tutto quanto e lei l'ha chiamato il bagno di mio marito praticamente questo qua invece l'ha fatto suo stendere la scuola deve fare le sue cose quindi anche in una casa di design noi possiamo fare le nostre cose stendere e fare desperate housewife tutte le nostre ed è per quello se no sicuramente non avrei utilizzato la cementina sarei andata tranquillamente con la tinteggiatura su quella parte allora Paola così a occhio e croce secondo me dobbiamo dedicare un'altra puntata ai bagni perché è veramente a parte che dobbiamo finire di vedere altre soluzioni molto carine perché adesso il bagno la vasca torna di moda se uno ha due bagni in uno magari mette la vasca perché comunque si poi magari dobbiamo operare parlare di più anche dei piatti doccia perché anche lì c'è la materia c'è il filo pavimento ci sono quelli in resina spessi tre centimetri ma con una notevole dimensioni oggi posare un piatto doccia 80 per un metro e 60 è abbastanza usuale cioè quindi poi si mette il cristallo libero c'è chi non ama le gocce che escono fuori allora vuole il box doccia quindi la porta scorrevole che si chiude però io la mia tendenza attuale è quella di mettere il cristallo libero e di lasciare questi macro piatti doccia appunto di notevoli dimensioni certo che hanno una continuità con il resto del bagno quindi l'appuntamento sarà per il mese prossimo sempre che poi ci sono arrivate le domande sulla bagno a vista bagno in camera tante cose quindi dobbiamo rimanere a parlare di bagni ti diamo l'appuntamento al mese di marzo ormai siamo a febbraio e ci vediamo a marzo è vero quella primavera si aprono anche i cantieri grazie di essere stata con noi grazie a te Maria Rosa e grazie a tutto lo staff sempre gentilissimi e con voi cari telespettatori ci vediamo domani perché arriva un'altra puntata imperdibile di A Tu Per Tu Con e poi venerdì mi raccomando torna la pediatra quindi aspettiamo tutte le vostre domande a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti